rispetto agli altri sono più spettacolari perché era la novità in assoluto questi sono più moderni come concezione come una persona che ha visto il film originale mi ha piaciuto le varie scene che sono state immesse per far ricordare il film originale e mi ha piaciuto tantissimo i personaggi del primo film che sono stati ripresi e rimessi nella storia l'atmosfera mi è piaciuto l'atmosfera le varie scene dove ci sono i dinosauri in giro quella sensazione di horror mi è piaciuto l'hanno fatto bene bello dei belli effetti speciali i ragazzi più giovani sono rimasti contenti ci è piaciuto